Codemotion Buongiorno, siamo qui a Codemotion Roma con Stefano Sanna, Stefano è responsabile dell'Android Lab di Open Reply Ciao Stefano, raccontaci un po' di NFC Ciao Ugo, ciao a tutti NFC è una tecnologia molto affascinante che nei prossimi mesi e probabilmente l'anno prossimo con grande clamore cambierà il nostro modo di interagire con i sistemi di pagamento, l'accesso all'autobus, alla metro e a tutta una serie di servizi del quotidiano che ci semplificheranno la vita Senti, ma sui device, perché è già un po' che si parla di NFC, ma sui device poi questi chip ci sono, non ci sono, ci saranno, quando succederà? In Italia abbiamo una decina di terminali compatibili che hanno già il chip a bordo e quindi considerando il tempo medio di rinnovamento del parco telefoni, diciamo che probabilmente in 12-18 mesi buona parte di noi avrà in tasca uno smartphone con il chip NFC Android? Per adesso Android, ci sono già i BlackBerry, su iPhone e Windows Phone ancora nessuno si pronuncia ma considerando l'importanza dei player ci si aspetta che il 2012 entro quest'anno porti delle novità interessanti i rumors ci sono Quindi sicuramente il 2012 potrebbe essere l'anno finalmente di NFC? Probabilmente il 2013, nel 2012 prendiamo coscienza che NFC c'è, che può fare delle cose interessanti ma effettivamente sinché le persone non hanno fra le mani un dispositivo che permette di sfruttarlo gli sforzi che faranno le aziende saranno vani, quindi prendiamo il 2012 come una buona rincorsa e il 2013 è quello del lancio Senti, quindi ci confermi comunque che in Italia ci sono già dei progetti in atto, in essere? Ci sono già diverse trial, diverse sperimentazioni fatte sia dagli operatori che dalle società di trasporto, dalle banche e già nelle università si incominciano a vedere degli interessanti titoli di tesi sia di triennale che di specialistica che danno l'occasione agli studenti di acquisire una certa dimestichezza con questa tecnologia quindi veramente gli ingredienti sono tutti pronti Senti, tu sei responsabile dei laboratori Android di Opera Play, quindi ti occupi soprattutto di open source Sì, sfruttiamo il fatto che Android è una piattaforma aperta che ci permette non solo di lavorare su prodotti chiusi, confezionati nelle scatole che troviamo sulle grandi distribuzioni di elettronica ma abbiamo la possibilità di customizzare Android per dispositivi particolari, per applicazioni particolari e sicuramente rispetto al mondo iOS poter guardare dentro il codice sorgente è sicuramente un vantaggio è sicuramente un vantaggio e poi esporre sui forum a Google quali sono i difetti e quali eventualmente potrebbero essere le migliorie che si possono applicare Ma Google vi ringrazia per questo oppure è tutto dovuto? No, non è tutto dovuto, è un ecosistema che, diciamo così, quando tu sei alla guida e hai la precedenza e qualcuno si ferma allo stop, non è che gli fai un cenno con la mano per ringraziarlo ha rispettato le regole dell'ecosistema che è la guida e così nel mondo open source noi attingiamo, raccogliamo a piene mani quello che c'è e poi mettiamo a nostra volta pezzi di codice sorgente, dei tutorial, della formazione quindi si alimenta, nessuno dice grazie a nessuno ma tutti danno il loro contributo È un ecosistema che funziona e Google fa sicuramente la sua parte? Sì, decisamente Senti, e i ragazzi? È facile trovare persone che si occupano di queste tecnologie? Allora, in ambito Android il fatto che ci sia l'eredità di Java facilita sicuramente il riciclo delle esperienze maturate o in altri contesti o all'università con esperienza forte su Android, sullo sviluppo mobile, perché poi sono le due anime una è Android come piattaforma, l'altra è l'esperienza sul contesto mobile non è così facile trovarlo, però diciamo il mercato è sempre più interessante quindi tanti giovani ci si affacciano e questo è sicuramente attraente Stefano, un'ultima domanda, come vedi il mondo dello sviluppo cross platform? Perché in questo momento sviluppare per ogni dispositivo potrebbe essere dispersivo si stanno muovendo molte cose, tu che cosa ne pensi? Penso che ci sono delle soluzioni che si palesano come interessanti HTML5, diversi framework che sono basati su approcci ibridi più o meno sbilanciati verso le webview credo che oggi sia una moda una moda diciamo così, un desiderata perché abbassa i costi e i tempi di sviluppo diciamo che dovremmo vedere sul lungo termine se effettivamente porterà beneficio se alla fine gli utenti decreteranno che le applicazioni native sono più belle più veloci, più funzionali dovremmo aspettare i fatti ecco Perfetto, ringraziamo Stefano e speriamo che venga a trovarci anche il prossimo anno Senz'altro